Musica Buona domenica, bentrovati al consueto riepilogo delle notizie più importanti della settimana. Cominciamo da lunedì 30 aprile. Finanziaria regionale siciliana, il Parlamento ha approvato norme importanti, prima tra tutte quella che riguarda i fondi ai disabili. Lunga maratona dell'Assemblea regionale siciliana per approvare la legge finanziaria. L'Aula ha approvato il cuore della manovra a partire dal Fondo per la disabilità, che ammonta 270 milioni di euro. Si tratta di risorse regionali, nazionali ed europee, messe a disposizione nel 2018 per la disabilità. Le somme stanziate serviranno per finanziare l'assegno di cura agli oltre 12.000 disabili gravissimi, censiti dalle aziende sanitarie e per servizi in favore di disabili gravi. Il Governo ha presentato inoltre un emendamento condiviso con tutto il Parlamento che stanzia 5 milioni di euro per dare attuazione, dopo 18 anni, all'articolo 14 della legge 328 del 2000, relativo a piani di cura individuali per i disabili. Nel complesso, le risorse per la non autosufficienza ammontano a 370 milioni di euro. Ha approvato anche la norma sulla stabilizzazione dei precari delle autonomie locali. L'articolo 30 ha approvato dal Via Libera all'accelerazione dei circa 13.000 precari dei comuni e di 380 regionali. Salvati anche 80 precari degli exasi che transiteranno all'IRSAP. È passata anche una norma che consenta agli assunti nel 2000 nel ruolo tecnico dei beni culturali, un aumento di stipendio per equipararli ai funzionari direttivi. Si tratta di un incremento lordo di 1.600 euro all'anno per circa 400 tecnici. Stanziati 6 milioni e mezzo per la pulizia di fiumi e torrenti, saranno utilizzati forestali, dipendenti dell'Ese e dei consorsi di bonifica e 500.000 euro che saranno trasferiti ai comuni per la pulizia dei torrenti bloccati da immondizie e discariche abusive. Altro punto cruciale riguarda l'amianto. Ha approvato un finanziamento da 200.000 euro per la protezione civile per lo smaltimento della sostanza altamente cancerogene. E ancora stanziati 600.000 euro per il sostegno alle famiglie che fanno adozioni internazionali. Altra novità, nasce una sorta di nuovo dipartimento in regione che si occuperà di emergenza idrica. In questa struttura, in capo alla Presidenza, passano tutte le competenze su fiumi, torrenti e dighe, pianificazione su uso in rigue potabile dell'acqua. Finalmente, la regione si dota di un'autorità di bacino che si occuperà di programmazione in materia idrica. Passa anche la norma proposta al governo che apre a nuova assunzione all'ARPA, l'Agenzia regionale per l'ambiente, e l'aumento del contratto dei forestali, con una media di 80 euro in più al mese, per i 22.000 stagionali. Non passa invece la norma proposta al governo musumeci, che stanziava aiuti fino a 40.000 euro per l'acquisto della prima casa da parte di giovani coppie, con reddito inferiore fino a 20.000 euro. Il fondo però era solo di 6 milioni e mezzo e potevano beneficiare della norma solo 150 coppie. Narrare le infanzie, differenze, diversità, diritti e doveri. È il convegno nazionale organizzato dal gruppo nazionale Niri e Infanzia, che si terrà dall'11 al 13 maggio a Palermo. L'importanza di questa iniziativa sta nel fatto che il nostro gruppo, il gruppo nazionale Niri e Infanzia, è un gruppo che esiste a livello nazionale da quasi 40 anni. Vorrei precisare chi siamo. Siamo un gruppo volontario, un'associazione culturale che raccoglie intorno a sé educatori, insegnanti, docenti, amministratori, amministrativi, genitori. È un'associazione che non abbraccia un unico specifico metodo pedagogico, come non abbraccia un'ideologia, ma come obiettivo, come valore importante, quello di sostenere i diritti di ogni bambino e di ogni bambina a servizi di qualità, a servizi di alta qualità. Quindi questo è il motivo fondamentale per cui ogni due anni ci avventuriamo nell'organizzare un convegno nazionale. L'ultimo è stato a Milano, quello precedente è stato a Reggio Emilia, oggi siamo a Palermo. Quindi questo è un appuntamento che abbiamo con tutti i nostri iscritti nelle diverse regioni italiane per poter ragionare e riflettere su attivare approfondimenti, innovazioni, confrontare esperienze, pratiche che riguardano appunto la vita dei servizi educativi e delle scuole di infanzia. Perché Palermo? Beh, intanto noi a Palermo eravamo già stati nel 2000, quindi è un ritorno a Palermo. Ma in questa occasione della città della cultura della cultura ci sembrava importante che all'interno della cultura, a pieno titolo, esistesse anche un'iniziativa sulla cultura dell'infanzia. Questa è un'iniziativa centrale nell'agenda di Palermo Capitale Italiana della Cultura, proprio a significare quanto l'attenzione sull'infanzia incroci tutte le questioni di natura culturale che vedono la città proiettata in questo traguardo. Per noi soprattutto significa poter accogliere il dibattito, prenderne spunto, il dibattito sull'infanzia, tutto l'approccio esperienziale che fa riferimento a un nuovo ascolto. Noi abbiamo bisogno di prenderci cura di più delle nostre bambine e dei nostri bambini, soprattutto di ascoltarli molto di più. Loro hanno delle capacità di disegnare il futuro rispetto alle quali la città dovrà naturalmente mettere in campo delle iniziative assolutamente nuove e capaci di dare loro la parola e sicuramente progettare la città del futuro secondo il loro sguardo. Alla scuola elementare Nicolò Turrisi di Palermo nell'ambito del progetto Panormus, la scuola adotta alla città, una delle classi ha raccontato lo storico mercato del capo attraverso suggestive fotografie. E porta Carini a introdurre il visitatore nel colorato ed antichissimo mercato del capo, tanto caro a Luigi Natoli che ne descrisse vicoli, chiese, monumenti e personaggi. Uno dei mercati storici di Palermo dove colori, profumi e suoni riescono ad avvolgere e rapire il più distratto dei viaggiatori. Una sfida a cogliere l'essenza di questo variopinto palcoscenico attraverso la rappresentazione fotografica, ancora più stimolante se raffigurata con gli occhi dei bambini. Così all'alimentare Nicolò Turrisi, nell'ambito del progetto Panormus, la scuola adotta alla città, una classe decide di raccontare il mercato attraverso le immagini di scatti. Scatti e immagini che prendono forme e diventano vive insieme a chi il capo lo fotografa da decenni. Lui è Claudio Pezzillo, reporter originario del mercato e del mercato continua a raccontare storie e colori attraverso i suoi scatti. L'idea è nata un po' per caso, da una visita guidata fatta al mercato del capo con i miei bambini della terza G del plesso Nicolò Turrisi, con i cellulari della maestra che ci hanno consentito di fotografare degli scatti di vita quotidiana, colti dai bambini e quindi tutto ciò che li colpiva maggiormente. E poi veramente da cosa nasce cosa all'interno della rassegna Panormus, la scuola adotta alla città, abbiamo inserito questi scatti per realizzare una mostra fotografica e rappresentare così il mercato del capo di oggi. Serviva un tassello fondamentale, il mercato del capo di ieri. E' per questo che ho contattato il grande artista del capo, mi permetto, il signor Claudio Pezzillo, che ha un blog interessantissimo su internet in cui raccoglie tutte le foto d'epoca, dal prima del 1890 sino ad oggi, del mercato del capo e dei mestieri. E' in questo modo che abbiamo organizzato la mostra insieme, il mercato del capo di ieri e di oggi, e poi una piccola personale dell'artista del capo in cui, con i suoi scatti fotografici, rappresenta la vita di oggi. Viene fuori l'originalità, la naturalezza che soltanto gli occhi dei bambini possono cogliere. Sono degli scatti molto particolari. Noi adulti dobbiamo dire la verità, abbiamo adesso dei filtri. Guardiamo tutto con un filtro che purtroppo la maturità ci ha dato. Invece dagli occhi dei bambini vedrete attraverso le immagini che saranno allegate a questo servizio che verranno fuori delle cose veramente particolari. 50 scatti per raccontare il capo di oggi. Il capo di oggi è per ricordare quel futuro per i ragazzini e per il domani. Come ho esposto le foto antiche per farle vedere ai ragazzi di oggi, oggi sto facendo queste foto per farle vedere ai ragazzi di domani. Lei conosce il capo particolarmente bene, ma cosa è cambiato al capo negli ultimi 50 anni? Dopo lo spopolamento del serremoto degli anni 60 e che il capo si era svuotato, oggi a Dagiadagio si sta ripalutando, rifacendo orientare tutte queste persone e anche tutte queste comunità che stanno occupando il nostro territorio dal capo. Mercoledì 2 maggio, primo maggio di sangue sulle strade siciliane. Un incidente mortale si è verificato all'altezza dello svincolo di Buonfornello a perdere la vita un giovane di 18 anni. Primo maggio di sangue sulle strade siciliane. Un tragico incidente mortale si è verificato sulla statale 113, all'altezza dello svincolo di Buonfornello. A perdere la vita un ragazzo di 18 anni, Castrense Cristian Taravella, di Campo Felice di Roccella, che viaggiava a bordo di un'onda SH 125. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della polizia stradale intervenuti sul posto, il giovane era a bordo del suo scooter quando intorno alle 20.30, per causa ancora in via d'accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare su un muretto al bordo della strada. Il diciottenne, che frequentava il liceo scientifico Palmeri di Termini Merese, è stato sbalzato dallo scooter ed è finito sull'asfalto. Fin da subito ha riportato ferite gravissime. Sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Sono stati i vani tutti i tentativi di rianimarlo. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale che hanno effettuato i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente. Un altro incidente, per fortuna senza vittime, si è verificato invece sull'autostrada Palermo-Catania, in direzione del capoluogo Etneo. L'impatto, tra tre auto, è avvenuto 5 km prima dello svincolo di Bageria. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l'ANAS e la polizia stradale. Automobilisti e passeggeri non hanno riportato ferite serie. Traffico rallentato fino a Villa Abate, fino alle ore 12.30, poi la circolazione è ritornata regolare. Tragedia anche a Marsala, dove un giorno di festa si è trasformato in un dramma. Un bambino di un anno e mezzo è morto strangolato mentre giocava con la cinghia della borsa della madre che era appesa ad una sedia. Il primo ad accorgersi di quanto stava accadendo sarebbe stato il padre, che ha visto il piccolo privo di sensi e cianotico nel tardo pomeriggio. Il bambino è stato quindi subito trasportato dai genitori al pronto soccorso dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala, ma per lui non c'è stato nulla da fare. I familiari erano disperati e i carabinieri adesso hanno avviato un'indagine. Drone scopre una serra di cannabis tra i pomodorini, sequestrate 6 tonnellate di marijuana a Vittoria e ha arrestato il coltivatore. Una serra con 15.000 piante di cannabis nascosta tra le coltivazioni di pomodorino di Vittoria è stata scoperta dalla polizia grazie anche all'utilizzo di un drone. La squadra mobile di Ragusa e il commissariato di Vittoria hanno sequestrato complessivamente 6.000 chili di droga per un valore stimato in diversi milioni di euro e ha arrestato il coltivatore. Gli arbusti di cannabis di diverse dimensioni sono stati esterpati anche con l'utilizzo di una ruspe trasportati alla questura di Ragusa con due tir in attesa di essere distrutti. La piantagione era stata realizzata in una serra su un'area di oltre 3.500 metri quadrati. Sono in corso analisi sulla droga sequestrata per accertare la qualità del principio attivo al fine di poterne stimare l'esatto valore commerciale. Le indagini sono state coordinate dalla procura di Ragusa. L'uomo arrestato è Carmelo Gurriedi di 53 anni. Le indagini erano state avviate dopo la segnalazione alla polizia di un forte odore di marijuana proveniente da alcune piantagioni. Per identificare la zona della coltivazione, gli investigatori hanno utilizzato un drone. Dopo aver individuato l'area, i poliziotti si sono appostati. L'arrestato aveva coltivato lungo tutto il perimetro pomoderini, doc, ragusani e fave, piante che raggiungono diversi metri d'altezza per nascondere quello che c'era all'interno. Prima di eseguire il sequestro, i poliziotti hanno atteso l'arrivo del coltivatore. Il guerriere è stato arrestato mentre irrigava le piante. L'uomo ha ammesso le proprie responsabilità, ma senza fornire alcun dettaglio su probabili complici. La lotta al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti continua su ogni fronte, ha commentato il capo della squadra mobile di Ragusa e il vicequestore aggiunto, Antonino Ciavola. È fondamentale colpire ogni anello della catena, dallo spacciatore di piazza alle organizzazioni criminali dedite al narcotraffico, dal corriere con ingenti quantità, al coltivatore diretto di marijuana. Il tutto con un unico obiettivo, preservare la salute dei più giovani ed assicurare alla giustizia i criminali. Ventunesima edizione del premio intitolato a Mario e Giuseppe Francese, dedicato ai cronisti che si sono distinti nel campo delle inchieste. Noi siamo qui per fare memoria, ma anche per ricordare le difficoltà di chi fa questo lavoro, difficoltà di diverso tipo, minacci, insulti, ma anche precariato, ma anche retribuzione vergognosa. Noi siamo qua per dire ai giornalisti, una volta per tutti, che bisogna essere uniti più che mai, denunziare con forza queste cose, reagire, essere solidari. In passato non troppe volte la categoria è stata solidale, ma io credo che siamo arrivati a un punto in cui la libertà di stampa è veramente sotto attacco. Allora noi dobbiamo difendere non soltanto la nostra professione, ma proprio questo mestiere, la funzione sociale importante, gli denunzia. La funzione essenziale che questo mestiere ha per la nostra democrazia. E dobbiamo fare capire anche alla società civile, ma soprattutto ai giovani, con cui oggi stiamo dialogando in maniera intensa, che il giornalismo è qualcosa che va sostenuto, va incoraggiato, va rispettato. Ecco, noi vogliamo dare questo tipo di comunicazione, vogliamo lanciare questo ponte verso la solidarietà. Libertà di stampa sotto attacco, difficoltà di fare il cronista, ma perché secondo lei? Perché il silenzio paga di più, perché raccontare certe cose dà fastidio. Allora si preferisce il buio alla luce. Ecco perché l'impegno che noi rilanciamo oggi con forza da questa sede è quello di illuminare questi territori bui, essere solidari con quei colleghi che operano in quei territori al rischio della propria vita. In qualche modo, come dire, offrire la nostra solidarietà, il nostro sostegno, perché si muore quando si è soli. È un grande privilegio ricevere questo riconoscimento, spero di essere all'altezza. Io ho realizzato delle inchieste sulla penetrazione dell'Andrangheta nella pianura padana e attualmente queste inchieste sono finite anche agli atti di alcuni processi sull'infiltrazione o meglio sul radicamento della criminalità organizzata in Emilia-Romagna e queste inchieste sono racchiuse in un libro dal titolo Guardare la mafia negli occhi. L'inchiesta, il giornalismo e il diritto di cronaca, a me è diventato difficile davvero? È sempre più difficile esercitare il diritto di cronaca in momenti come questi, purtroppo perché bisogna capire che il giornalista si scontra contro tanti fattori. Uno è la verità che deve essere sempre ricercata e in questo periodo non è facile sempre ritrovarla. Poi ci sono altre cose che riguardano proprio la professione che rallentano spesso grandi e giovani cronisti che potrebbero fare grandi carriere che è il precariato. Il precariato è un problema gravissimo di questo nostro mestiere e spesso condiziona le inchieste e chi le fa. La memoria di suo fratello è sufficientemente conservata e tutelata nei giovani oggi? Ma sicuramente sì perché noi siamo riusciti a trasmettere il suo messaggio che non è soltanto un messaggio di lotte, di impegno civile, di rottura con la propria famiglia, con l'ambiente dove lui ha vissuto ma è soprattutto un messaggio educativo per le nuove generazioni. Giovedì 3 maggio, operazione Black Job della Guardia di Finanza Corruzione all'Ispettorato del Lavoro di Catania Ai domiciliari l'ex deputato regionale Forzese e altre tre persone Concorso in corruzione continuata, soppressione, falsità materiale e ideologica di atti pubblici a fronte di condotte delittuose verificate all'interno dell'Ispettorato territoriale del Lavoro di Catania tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018. Con queste accuse i finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito nove ordinanze di custodia cautelare. L'indagine condotta dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di Finanza vede quali destinatari della misura degli arresti domiciliari il direttore dell'Ispettorato territoriale del Lavoro, Domenico Tito Amic e la responsabile dell'ufficio legale dello stesso ispettorato, Maria Rosa Trovato nonché Marco Forzese, già deputatore regionale nell'ultima legislatura siciliana e candidato non eletto alle regionali del 2017 e Antonino Nicotra, già consigliere nel Comune di Catania. È stata inoltre disposta la misura interdittiva nei confronti di Francesco Luca attuale direttore sanitario dell'Ispettorato di Catania sospeso per 12 mesi dall'esercizio del pubblico servizio per fatti concernenti sia l'attuale funzione che il suo ruolo di rappresentante legale dal 2009 al 2015 dell'ENAIP Ignazio Maugeri, attuale rappresentante legale dell'ENAIP destinatario del divieto di esercitare attività di impresa o assumere uffici direttivi in persone giuridiche Giovanni Patti, titolare dell'omonimo studio commerciale con sede a Giarre, sospeso all'esercizio della propria attività professionale Orazio Emanuele, rappresentante legale di società esercenti l'attività di stabilimenti balneari e di orto, cultura e vivaistiche destinatario del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali Salvatore Calderaro, gestore di una tabaccheria anche gli sospeso dall'esercizio di attività imprenditoriali Le indagini hanno svelato l'esistenza all'interno dell'Ispettorato di un consolidato circuito corruttivo alimentato da saldi e legami di amicizia che uniscono corrotti e corruttori E' stato appurato come il continuo scambio di utilità pacchetto di voti, incarichi alla regione siciliana assunzioni in ospedale e fornitura di beni ruotasse intorno all'illegittima archiviazione di verbali originati dagli accertamenti ispettivi dai quali sono emerse spesso violazioni per lavoratori assunti irregolarmente o in nero In alcuni casi si è assistito anche alla materiale sparizione dei verbali stesi o comunque ad audizioni amichevoli nelle quali è stata palese la mancata tutela degli interessi era reale in gioco L'attività di indagine condotta alla Guardia di Finanza ha permesso di tracciare svariati procedimenti amministrativi gestiti in modo parziale dagli indagati e nei quali il potere discrezionale attribuito al direttore dell'ente pubblico anziché essere interpretato quale fonte di responsabilità è stato asservito alle volontà dei corruttori comprimendo così definitivamente gli interessi pubblici confliggenti A seguito dell'operazione l'assessore regionale Mariella Ippolito ha disposto l'invio immediato di un sostituto alla direzione dell'ispettorato territoriale del lavoro di Catania per consentire la piena funzionalità del servizio nel rispetto della legalità Un ricco calendario di appuntamenti culturali è previsto dalla manifestazione invisibilia che si svolgerà fino al 31 di maggio dalle ore 16 alle 20 ogni venerdì, sabato e domenica nel centro storico di Palermo dedicata alle parole, alle immagini e ai suoni del Sacro Abbiamo scelto questo mese di maggio per realizzare un festival del Sacro, della teologia della bellezza L'abbiamo denominato invisibilia, cioè tramite ciò che vediamo possiamo raggiungere l'invisibile il mistero, la bellezza del mistero raccontato dalle nostre opere d'arte del centro storico di Palermo In questo contesto le nostre opere d'arte effettivamente sono ricche di contenuti teologici sia le opere d'arte medievale sia il nostro barocco che sotto questo punto di vista è stato fino ad ora sottovalutato è pieno di grande comunicazione teologica ma oltre che questo invisibilia è anche esperienza di preghiera Pregare tramite l'arte e quindi l'arte che si guarda, l'arte che si ascolta, la parola ascoltata è la musica che diventa elemento di comunicazione, di sensibilità In più invisibilia è progetto di futuro, commettenza per il futuro Di fatto all'interno del progetto abbiamo una serie di performance teatrale si tratta di gruppi giovanili teatrali che hanno studiato le Sarpotta e hanno messo in scena, metteranno in scena una loro visione i contenuti teologici del Sarpotta trasformati con un linguaggio teatrale Domani l'apertura alle ore 19 a Casa Professa con l'introduzione da parte della professoressa Massara della facoltà teologica che racconterà la teologia nella chiesa di Casa Professa Un modo anche per fondere il patrimonio monumentale con il patrimonio delle attività culturali infatti questa è un po' anche la filosofia di questo festival che mette insieme questi luoghi del sacro, insieme agli aspetti teologici quindi all'applicazione, al racconto del sacro un progetto ancora una volta di collaborazione sinergica che consente di mettere insieme diverse istituzioni a collaborare ad un'unica progettualità e che è inserito ovviamente all'interno del cartellone di Capitale Italiano della Cultura in quanto i soggetti sono tutti partner del cartellone unico della città che quest'anno appunto nel 2018 si presenta come Capitale Italiano della Cultura e che arricchisce enormemente il già ricco calendario di iniziative ci sono cose visibili ma ci sono anche cose invisibili e le cose invisibili si guardano anche con gli occhi del cuore e il cuore dice persona, dice l'umanità, dice ricchezza, dice cultura però nel cuore si trovano anche le cose più vere e più profonde per cui penso che la proposta che la Dioce si sta facendo abbia realmente una direi prospettiva di accompagnamento dei cammini di quanti arrivano a Palermo in questo anno della cultura attraverso la bellezza si fa cultura ma una cultura che è capace di raggiungere il cuore dell'uomo La città di Palermo si prepara ad ospitare Manifesta 12 la Biennale Europea di Arte Contemporanea un evento importante che servirà anche al rilancio dell'economia e del turismo in Sicilia la città di Bageria però è come tagliata fuori da questo grande evento a lanciare l'allarme il consigliere comunale Emilio Finocchiaro L'amministrazione nella persona dell'assessore Romina Iè l'ha presentato dei progetti di cui uno è stato accettato e benvenga il suo lavoro svolto per la nostra cittadinanza il problema sta nel fatto che io voglio portare questa mozione in aula semplicemente perché mai manifesti alle porte perché comincia il 16 giugno ma in realtà quei turisti, quei 5 milioni di visitatori che raggiungeranno Palermo non hanno nessun mezzo di comunicazione per poter arrivare a visitare Bageria con le sue ville e per rilanciare la nostra città e queste persone che potrebbero venire a Bageria potrebbero rilanciare anche dal punto di vista economico la nostra città i turisti che vengono a Bageria a visitare le nostre ville non hanno la possibilità di trovare un taxi o un pulma che li possa riaccompagnare nel loro hotel oppure sono costretti ad andare alla stazione non conoscendo la città visto che vicino alla stazione non abbiamo nemmeno un centro di comunicazione, informazioni o delle mappe che potrebbero aiutare i turisti Nel penultimo consiglio comunale che abbiamo avuto non era stata inserita la mia mozione per una questione di tempistica forse perché ho presentato la mozione in ritardo nel consecutivo consiglio comunale avevo chiesto al Presidente se si poteva trattare la mia mozione ma in base agli accordi fatti all'agopogruppo si doveva trattare prima una delibera siccome avevo degli impegni lavorativi avevo preteso che essendo una mozione importante per la nostra cittadinanza venisse trattata per prima cercando di metterla in votazione che non mi è stato concesso poi ho riprotocollato un'altra mozione una comunicazione scusate dove chiedeva al Presidente di entro il giorno 30 di avere un consiglio comunale ordinario per trattare questa mozione ma non è stato fatto e oggi ne ho presentato un'altra sperando che il Presidente del Consiglio abbia il buon senso di potermi accordare questo consiglio comunale perché oltre alla mia mozione ci sono altre mozioni che interessano la città di Bageria comunque il progetto della mia mozione è dovuto dal fatto che io chiedo di collaborare in maniera democratica con tutti i rappresentanti dei partiti che ci sono all'interno dell'Aula Consiliare e dell'Amministrazione per cercare di trovare degli accordi delle soluzioni anche con ditte private che abbiano la possibilità di noleggiare dei pullman per poter consentire a questi turisti che vengono a Palermo di poter visitare Bageria basta poco una piccola cifra da investire da poter utilizzare dei pullman che stazionate alla stazione centrale di Palermo che durante una turnazione di due o tre ore fanno il percorso per portare i turisti a Bageria che sarebbe una cosa veramente bellissima solleverebbe un po' la nostra economia in questi quattro mesi ripeto vista l'affluenza prevista ad oggi di 5 milioni di visitatori venerdì 4 maggio in occasione dello sciopero nazionale delle guardie giurate anche a Palermo un presidio di protesta a Piazza Verdi al centro dell'avvertenza e il rinnovo del contratto di lavoro oggi in occasione dello sciopero generale indetto da CGL Cisleguille che si tiene a Roma il SAVE sta aderito come sindacato autonomo qui a Palermo per dare la possibilità ai colleghi che non sono potuti andare a Roma per presenziare a questa protesta le criticità sono le richieste datoriali per questo nuovo contratto scaduto ormai da tre anni richiedono un abbattimento sulla malattia quindi i primi tre giorni di malattia non andrebbero più retribuiti poi ci sarebbe la flessibilità oraria che vedrebbe impegnata la guardia giurata nell'arco delle 12 ore quella che è la proposta attuale per svolgere le sue sette ore dovrebbe fare uno spezzato di quantomeno tre volte in un'unica giornata quindi sarebbero due ore la mattina due ore il primo pomeriggio due ore la sera quindi per raggruppare quelle poche ore giornaliere dovrebbe lavorare tutta la giornata il riposo verrebbe spostato non più con cadenza settimanale ma su un arco di due settimane ad esigenze aziendali quindi tutto questo non possiamo permetterlo perché già oggi il lavoro della guardia giurata è gravoso abbiamo aggressioni continue in ospedali abbiamo colleghi che fanno servizio in banca dove per otto ore anche per un motivo fisiologico devono attendere il cambio quindi non è ammissibile tutto ciò che viene richiesto riguardo la sicurezza la sicurezza bene per quanto riguarda noi la sicurezza è un problema importante perché per come la dobbiamo dare la dovremmo anche ricevere consideriamo che lavoriamo di notte da soli sulle autovetture a vigilei dei posti abbastanza critici in mezzo alla campagna in mezzo a zone abbastanza pericolose e tutto questo non è facile come comprendiamo voi avete richiesto di uscire in coppia abbiamo richiesto di uscire in coppia da parecchio tempo perché davvero è diventato rischioso lavorare da solo c'è da dire una cosa importante loro vogliono togliere la malattia ma come si fa a togliere la malattia quando noi ci siamo ammalati a causa di questo lavoro stando all'impiede ore e ore oppure salire dalla macchina continuamente ogni 50-100 metri per fare i controlli abbiamo tutti schiacciamenti delle vertebre abbiamo ernie al disco quindi non è facile gestire tutto questo poi un'altra cosa siamo una categoria di lavoratori che per fare questo mestiere dobbiamo avere una fedina penale ecco la gente magari questo non lo sa pensa che siamo dei semplici lavoratori no per fare questo lavoro dobbiamo avere una fedina penale pulitissima illegittima cioè perfetta neanche forse un capo del governo ha la fedina penale pulita che abbiamo noi siamo sottoposti al controllo ogni due anni come si fa a declassare una classe di lavoratori in questo modo quando dobbiamo mantenere una fedina penale così pulita così ragazzi aiutatemi così limpida quindi declassare questa classe di lavoratori è inammissibile è ingiusto perché se vogliono offrire un servizio buono ai utenti devono avere dei professionisti seri e muniti e motivati non così per la prima volta in Italia grazie al contratto di costa potrà essere sistemato e salvaguardato un lungo tratto di costa siciliana l'accordo è stato sottoscritto a Palazzo d'Orlean tra il presidente della regione Nello Musumeci e i sindaci dei 14 comuni interessati vediamo per la prima volta in Italia grazie al contratto di costa potrà essere sistemato e salvaguardato un lungo tratto di costa siciliana l'accordo è stato sottoscritto a Palazzo d'Orlean tra il presidente della regione Nello Musumeci e i sindaci dei 14 comuni interessati Acquedolci Cibrolo Capodorlando Caronia Gioio Samarea Motta d'Affermo Naso Patti Piraino Reitano Sant'Agata di Militello Santo Stefano di Camastra Torre Nova e Tusa il tratto di costa interessato è di circa 80 km e va da Patti a Tusa sulla costa tirrenica quello dell'erosione delle spiagge del Messinese spiega il presidente Musumeci è un tema che coinvolge molti enti locali sul quale però si è sempre intervenuto solo con singoli provvedimenti tampone dettati dall'emergenza è emersa quindi la necessità di un'unica visione strategica che veda la regione siciliana come organismo sovracomunale per fare sintesi dei vari progetti di ripascimento presentati per questo ringrazio Maurizio Croce per avere creduto in questo progetto sperimentale in questa prima fase il contratto prevede che venga sviluppata una progettualità complessiva integrando azioni tra loro diverse e promosse da soggetti differenti in un'ottica di riqualificazione complessiva inoltre sarà possibile agire in modo unitario per il risanamento delle condizioni territoriali adeguate alla prevenzione del rischio idraulico e di dissesto idrogeologico nonché alla ricostruzione ecosistemica la dotazione finanziaria è di 34,5 milioni di euro ed è garantita dalle risorse del fondo di sviluppo e coesione già assegnate ad alcuni comuni e dal patto per la Sicilia il progetto generale sarà predisposto entro quattro mesi e verrà coordinato dagli uffici del commissario per il rischio idrogeologico in una regione come la Sicilia dove la risorsa mare rappresenta il volano per il rilancio del turismo continua il governatore lo strumento del contratto di costa ha la valenza di un accordo che mette allo stesso tavolo le istituzioni per definire e pianificare le strategie da condividere sul tema dell'acqua come elemento di sviluppo del territorio e della fascia costiera cercheremo nel prossimo futuro di coinvolgere altri soggetti quali i entiparco i gestori delle riserve naturali i gal i consorsi di bonifica e le soprintendenze affinché al turismo balneare possa essere associato un turismo biologico naturalistico e culturale attraverso una promozione delle eccellenze del nostro introterra del nostro paesaggio e dei nostri luoghi e testimonianze da raccontare per la prima volta a Torino 150 opere della collezione dei libri d'artista dell'Accademia di Belle Arti di Palermo saranno esposte presso l'Officina della Scrittura il primo museo al mondo interamente dedicato al segno e alla scrittura i libri d'artista sono una grande occasione per l'Accademia per collezionare una cosa importantissima che è un punto di ricerca che gli artisti fanno e usano come libro il libro d'artista è un libro di grande libertà e questa nostra collezione che nasce nel 2013 come prima mostra oggi va a Torino in un'occasione importantissima grazie al lavoro fatto dal nostro direttore Mario Zito dal presidente Alberto Coppola va a Torino o va al Salone del libro con quattro presenze e l'altra parte della collezione 150 libri d'artista verrà esposta al museo della scrittura e del segno ed è un museo diciamo di una fabbrica importante dell'industria italiana dove si produce la penna Aurora e questo è un grande prestigio per l'Accademia è una grande vetrina nazionale e il libro d'artista il nostro collezione è una collezione importante perché mette insieme tante generazioni c'è un'opera di un artista 92enne e arriva fino ai giovani artisti formati sia all'Accademia di Palermo per cui oltretutto è anche una collezione unica nelle accademie italiane l'Accademia di Palermo è una delle nove accademie storiche italiane ed è la prima che possiede una collezione di questo genere ovviamente l'ispirazione sono sempre i libri sì i libri che sono uno strumento di ricerca degli artisti sia giovani di tutte le generazioni e questo è uno strumento di ricerca anche oltre a essere generazionale come dicevo prima anche geografico perché prima abbiamo raccolto i libri che coinvolgevano gli artisti che insegnano all'Accademia di Palermo potrei fare tanti nomi ma poi e poi grazie anche alla la cura di un carissimo amico con cui abbiamo collaborato e collaboriamo Enzo Patti questa collezione si è allargata sul territorio sia palermitano che siciliano e in questo momento ho la presenza anche di artisti italiani Notar Giacomo ne faccio uno per tutti il nome per tutti è l'ultima acquisizione che abbiamo ed è un artista importante è una statista italiana che vive a Roma è stato un professore dell'Accademia di Roma insegnava pittura insomma abbiamo una collezione che è in continua crescita è tutto grazie per l'attenzione vi auguro ancora una buona domenica grazie a tutti